cari amici di mmo.it e non solo benvenuti in questo ennesimo nuovo video dedicato a black desert che è un mmo molto interessante molto complesso infatti richiede molti video e di questo siamo sempre qui nei pressi di veili e in questo caso vicino alla mia bellissima fattoria di girasoli troveremo una certa informazione riguardante il farming e nello specifico volevo occuparmi delle migliori zone per farmare in black desert sia da livello 1 56 cioè fino a raggiungere soft cap sia nella seconda parte del video dal 56 in poi sia per questione di esperienza sia per questione di denaro quindi per il leveling vi rimando a questo video ascoltatemi per l'end game diciamo così vi rimando al video successivo l'avventura di black desert inizia nei pressi di olvia quindi i primi luoghi chiaramente di leveling sono quelli basilari il black spirit da una serie di quest tendenzialmente è sempre bene seguirlo e fare quelle quest lì ma in alcuni posti è bene stare più tempo che in altri perché conviene perché danno più esperienza ai singoli mostri oppure sono di più sono più accentrati e quindi tendenzialmente è meglio invece che andare in giro è meglio star poco in determinati luoghi e stare molto in altri perché rapporto qualità tempo diciamo è migliore allora i primi mostri di cui noi ci occupiamo che conviene farmare già sono di livello circa 20 perché prima c'è un tutorial rapidissimo si è già in circa a livello 10 15 io potrei dire che si va a farmare un po nella forest of seclusion perché per quei livelli va bene dopodiché ci si sposta a sud nei pressi di eidel e iniziano i seguenti mob che conviene farmare prima di tutto si dovrebbe andare tendenzialmente a il bloody monastery da livello 25 livello 27 ma è abbordabile anche prima che è un luogo a sud dove i mostri sono veramente tanti muoiono molto in fretta perché sono dotati di pochi hp così come accade anche nelle castle ruins pur in misura minore se non riuscite a fare subito il bloody monastery perché siete di livello 20 è chiaramente improponibile malgrado le quest del black spirit ecco andate e state un attimino alle castle ruins è un altro buon posto dove farmare comunque poi bloody monastery assolutamente dopodiché ci si sposta al delphi knight's castle tra eidel e calfeon su questa altura montuosa ci sono un sacco di arpie veramente tante anche queste fanno poco danno muoiono in fretta in black desert tendenzialmente sempre meglio affrontare dei mostri magari un po più deboli in termini di vita perché se ne ammazzano molti piuttosto che pochi ma che danno magari più esperienze bello essere celer in black desert nel farmare perché appunto conviene uccidere più mob di livello inferiore che danno meno esperienza piuttosto che più di più più esperienza ma meno mostri ecco dopodiché il gioco tende a far spostare il personaggio verso ovest nello specifico fa andare a calfeon ed intorni a calfeon ed intorni si dovrebbe già essere intorno al livello 30 possiamo dire 30 31 quindi c'è subito un ottimo farming spot che è rappresentato dai refugee nel refugee camp che sono degli zombie ce ne sono una marea qua veramente c'è da stare per molti livelli converrebbe stare perfino fino al 38 39 a farmarli perché si fa comunque in fretta e soprattutto se si utilizzano i buff che di giorno in giorno vengono previsti e magari si gioca o durante il weekend che ha il bonus del 100% dell'esperienza oppure in un server come Olvia che garantisce a chi sta livellando un bonus ulteriore dell'esperienza sempre del 100% quindi quando si livella sempre meglio usare questi accorgimenti per non sprecare il tempo banalmente da il refugee camp in avanti uno potrebbe tranquillamente andare a farmare i capras che si trovano nei dintorni di Florin capra sono questi che nella capra scape nello specifico sono di nuovo mostri abbastanza interessanti dal punto di vista degli HP di quello che droppano e della velocità con cui si uccidono nonché del loro assemblamento a questo punto uno tendenzialmente dovrebbe aver raggiunto circa il livello 40 e io suggerisco come altro farming spot i cosiddetti... anzi il Marnislab in sé per sé considerato che contiene diversi mob nei dintorni e all'interno del laboratorio stesso in particolare ci sono delle chimere cosiddetti che sono dei costrutti meccanici, mezzi meccanici, mezzi organici e lì vanno altri 3 o 4 livelli che sono anche un po' più i noiosi tra il livello 40 e il livello 50 inizia ad esserci un minimo di noia in più poi vedremo che viene immediatamente risolta comunque al Marnislab altro posto fondamentale secondo me si può ragionevolmente raggiungere anche ben più del livello 43 che qua viene inserito come diciamo ordine di grandezza e difficoltà dei mob si può anche raggiungere il 45 dal 45 in avanti ma anche prima volendo ci si sposta a sud lungo questa strada che arriva a Beher prima e a Trent poi che non c'entra niente con Trent e Bolzano e il Trentino Alto Adige ma è questa zona sempre vagamente montuosa e diciamo sicuramente fredda nella foresta di Conifero una bellissima zona dal punto di vista estetico che però non ha posti particolari dove farmare salvo per gli ultimi livelli quindi quelli che arrivano a un softissimo cap che è il livello 50 i Mancia nella Trent Forest qua sono individuati dei Trent ma in realtà i Mancia che teoricamente sono qua arrivano anche belli a sud comunque tendenzialmente Mancia e Catfishman soprattutto perché sono una marea hanno pochi HP e tendenzialmente si assembrano in luoghi appunto ristretti quindi con effetti ad area è possibile ammazzarne veramente tanti nello stesso quindi uno si alterna sostanzialmente tra Mancia e Catfishman insieme ovviamente alle solite quest del Black Spirit che comunque portano in luoghi diversi si aiutano a livellare e come questi sono un po' i posti fondamentali arriva al 50 al 50 il Black Spirit down a quest che sblocca il PvP peraltro quindi io chiamo il 50 al softissimo cap per contrapporlo al soft cap del 56 che è un po' il cap vero e proprio ma è comunque superabile noi già qua possiamo vedere che io sono al 57 e l'unica cosa è che l'esperienza diventa molto lenta ecco questo poi tutta tematica del secondo video bene dicevo il Black Spirit down a quest che consiste nell'uccidere un Catfishman molto grosso al Catfishman Camp sblocca il PvP sblocca la possibilità di salire oltre il livello 50 e quindi diciamo che è un passaggio obbligato il Catfishman Camp quindi conviene per un lungo periodo almeno fino a che non si raggiunge il 50 stesso stare in queste zone si risparmia ulteriore tempo e poi sono due zone molto consigliabili mostri sono tanti, sono accentrati, muoiono in fretta e si farma molto bene è chiaro che la preferenza di un luogo piuttosto che di un altro dipende dal livello certo ma da un certo punto in avanti anche dall'equip l'equip c'è chi sa e chi non sa che viene diviso in AP e DP cioè Attack Power e Defense Power, Attack Points e Defense Points insomma uno fa quello che vuole perché tanto la traduzione non si sa viene dal giapponese o dal coreano e nessuno sa esattamente che cosa voglia dire AP e DP ma tendenzialmente indicano ovviamente il potere di attacco e il potere di difesa quindi dei numeri che sembrano messi lì a caso ma in realtà indicano la forza di fatto del nostro personaggio quindi insieme al livello tenete conto anche di questo se volete perché è abbastanza complicata come cosa una chiarificazione da questo punto di vista non preoccupatevi potete lasciarlo scritto tra i commenti e ce ne occuperemo senz'altro probabilmente ce ne occupiamo lo stesso una tematica molto confusa però interessante di Black Desert arrivati appunto al 51 e passa perché tendenzialmente dai Catfishman e dai Mansha si può salire parecchio si potrebbe variare con delle zone già più a est quindi nello specifico il Croncastle che è di nuovo una zona molto accentrata anche qui circa a livello 51 e poi inizia l'artiglieria pesante perché dal 51 al 56 il grinding è sicuramente più lento ma i posti fondamentali sono veramente premi di mob quindi se uno sa dove andare fa molto in fretta primo è un sposto senz'altro qua ci sono delle quest daily ripetibili i mostri veramente vengono giù con una rapidità imbarazzante ce ne sono tantissimi attenzione alla concorrenza ecco da qui in avanti attenzione alla concorrenza perché è possibile che nella parte a est ci sia molta gente che livella o che farma semplicemente quindi elm's post per primo elric shrine per secondo a me la elric shrine personalmente piace meno perché i mostri sono un po' più dispersi cioè ci sono meno pocket di mostri assembrati come invece avviene nell'elm's post dopodiché senza altro il farming spot per eccellenza di questo gioco sausan garrison sausan garrison è possibile rimanerci probabilmente fino al 58 59 se non avesse pazienza è un posto fondamentale sempre sovraffollato il miglior farming spot di black desert come comodità e come remunerazione dal punto di vista dell'esperienza e dei soldi droppati dai sausan ci sono maree di mostri muoiono velocissimi si farma da dio il livello sale che è un piacere tendenzialmente qual è il difetto che c'è tanta gente che lo fa perché è un gran posto per cui uno soprattutto se livella nei pochi canali col bonus del leveling quali sono olvia 1, 2, 3, 4 probabilmente trova già tutto occupato quindi lì la questione duplice è unirsi o combattere è ovvio che se uno sta livellando conviene unirsi perché spesso a sausan ci vanno anche quelli che sono di livello 56 e seguenti quindi endgame con equip pesante ed è chiaro che combatterli quando si è livellini non conviene con i sausan si dovrebbe raggiungere il 56 il black spirit manderà ancora il personaggio in giro a fare altre cose ma nessuno di questi spot a me sembra particolarmente utile salvo forse il soldier's grave proprio alla fine che è un po' meno utile diciamo dei sausan dal punto di vista dell'exp vera e propria perché ha dei mostri leggermente più forti ma comunque droppa molto bene dal punto di vista delle ricchezze e ha anche un certo assembramento degli stessi mob quindi con attacchi ad area magari un paio di persone che aiutano ma anche da soli si fa ottima esperienza è meno efficiente soprattutto per livellare dei sausan però contiene spesso meno persone quindi uno deve un po' farsi un calcolo se conviene l'uno o se conviene l'altro dopo il 56 che a questo punto viene agevolmente raggiunto il gioco tende a farci spostare verso est a Valencia e qua inizia tutto un altro paio di maniche che vedremo nel prossimo video nel frattempo io vi saluto se avete domande se avete anche richieste di ulteriori chiarimenti di questo gioco molto complesso su qualunque meccanica dal farming al processing alle skill alle spell eccetera gli AP e i DP di cui parlavamo prima non avete altro che da commentare e noi saremmo lieti di proseguire questa direzione questa playlist di video dedicati a questo ottimo MMO coreano che però stupisce in positivo io vi ringrazio per averci seguito per avermi anzi seguito e ascoltato e vi do appuntamento al prossimo video sempre dedicato a Black Desert questa volta all'endgame e a dove farmare per avere soldi e continuare a expare oltre il cap grazie e a presto